Esatto, ora lo sapremo! Guarditi! In vantaggio Cardinal Bird davanti a Scinicanon, Rio Black, Let My Run, Super Glamour, White On By, Youngstar, Gran Zamir e Keshek. Dopo 300 metri di corso in vantaggio Cardinal Bird davanti a Scinicanon, Let My Run, Rio Black, Youngstar, Keshek, Super Glamour, Gran Zamir e Weistra, And By. All'inizio della curva prosegue in vantaggio Cardinal Bird davanti a Scinicanon, Let My Run, Keshek, Rio Black, Youngstar, Youngstar, Gran Zamir, Super Glamour, White On By. Poco prima che l'ingresso addirittura è sempre in vantaggio Cardinal Bird davanti a Scinicanon, Keshek, Rio Black, i cavalli entrano in dirittura. Con Cardinal Bird in vantaggio attaccato all'esterno da Scinicanon, seguono Keshek, Rio Black, Youngstar, Gran Zamir e Let My Run. In leggero vantaggio Scinicanon attaccato all'esterno da Keshek, a centropista Youngstar, passa Keshek attaccato all'esterno da Youngstar, in vantaggio a Keshek attaccato all'esterno da Youngstar, passa Youngstar davanti a Keshek e Scinicanon e Rio Black. Era tra loro, era tra loro, Rolando, la battaglia, quei quattro chili che ballavano, che erano poi due in realtà, perché due gli ridava già l'altra volta, sul finale dell'altra volta di Youngstar. Ora vediamo insieme, salvatore Sulas per Daniele Camusso, per la Colle Papa, che probabilmente, stiamo vedendo, dovrebbe aver preso, anzi ha preso facilmente, il favore di Keshek che è relegato al secondo posto, e si tira anche un po' su, salvatore Sulas. Facilmente, facilmente, Rolando, no? Spero di sì, dai, si tira anche su, è spazzato, dai. C'è un corto muso, mi sono sbilanciato io, però si vede l'ambienta tua roba, Mario. Sì, sì, sì. Perchè il terzo posto? Perchè il terzo posto?